Come faccio a sapere se sono allergico alla muffa? La muffa è un tipo di fungo che è diverso dalle piante o dagli animali e un organismo vivente che produce semi, che sono anche chiamati spore. Generalmente, le spore della muffa sono diffuse dal vento e ci sono alcuni periodi dell'anno in cui sono più prevalenti. La maggior parte di tutti gli esseri umani inalano le spore della muffa, ma alcune persone soffrono di reazioni a loro. Le reazioni alle muffe potrebbero indicare che una persona è allergica alla muffa. A seconda della fonte dello stampo, le persone possono soffrire di sintomi temporaneamente o per tutto l'anno. Trovati all'interno e all'esterno, la muffa cresce su piante morte, tronchi marcescenti ed erba. Non muore in inverno. Piuttosto, diventa dormiente e poi ritorna in primavera attaccandosi alle piante morte. Anche se le spore di muffe esterne sono principalmente responsabili della maggior parte delle allergie da muffe, le persone possono anche soffrire dei sintomi derivanti da contaminanti interni. La muffa prospera in aree calda e umide come vasche da bagno, lavandini e intorno ai tubi. Se una casa è contaminata dalla muffa, i familiari possono diventare allergici a causa del contatto quotidiano con le spore della muffa. Un'allergia alla muffa si presenterà con sintomi simili a quelli del comune raffreddore. In generale, una persona allergica alle muffe può avere uno o più di questi sintomi, tra cui un naso ripieno con congestione, prurito su parti del corpo, occhi lacrimose e un'eruzione cutanea squamosa che appare sulla pelle. Le minuscole spore della muffa possono attaccarsi al rivestimento interno del naso e dei polmoni, causando così sintomi più gravi, come febbre alta o addirittura asma. Le reazioni alla muffa possono accadere improvvisamente, ma possono anche essere ritardate. Per diagnosticare un'allergia alla muffa, un medico di solito esaminerà la storia medica e darà al malato un esame fisico completo. Di solito userà diversi estratti di funghi per determinare se il paziente è allergico alla muffa. Pungendo la pelle con questi estratti, il medico può cercare una reazione. Combinando l'anamnesi del paziente, l'esame fisico e il test cutanei, di solito sarà in grado di fare una diagnosi accurata. Ci sono modi per evitare di diventare allergici alla muffa. Una persona potrebbe rimanere in casa quando il numero di spore presenti nell'aria è elevato e mantenere i bagni, i seminterrati e le cucine ben ventilati. Qualsiasi impianto idraulico che perde deve essere riparato e tutte le grondaie devono essere prive di foglie o altri detriti.